Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti in un nuovo video PC Gaming Esatto, a una settimana del Prime Day ci sono delle riflessioni da fare Ma non solo nell'ultimo periodo bene o male perché i mesi che abbiamo vissuto hanno visto dei cambiamenti sostanziali per il nostro mondo quindi oggi volevamo analizzare un pochettino punto per punto il motivo per il quale questo, in particolare, è un ottimo se non il perfetto momento per farsi un PC Per una volta siamo d'accordo con Hardware Unboxed anche se la sua analisi, secondo noi, è un po' più superficiale noi vogliamo andare un po' più a fondo della motivazione perché questo è il miglior momento facendo anche comparazioni europee perché lui parla spesso di, ovviamente, Australia del loro mercato, come tutti gli altri americani perché, comunque, effettivamente abbiamo recensito male diversi prodotti soprattutto lato GPU nuovi anzi, credo che non esca una review positiva da più di un anno Sì, sì, praticamente sì ma c'è un motivo per cui lo abbiamo fatto e, tra l'altro, l'abbiamo anche ripetuto più volte nel senso che l'analisi che facciamo noi delle schede video nelle nostre recensioni sapete benissimo che comprende tutta una serie di valutazioni e fattori non solo l'hardware per come esce rispetto a nient'altro quindi senza metri di paragone, senza analisi del passato, senza niente facciamo un'analisi a tutto tondo e dalla nostra analisi a tutto tondo spesso e volentieri gli ultimi lanci sono usciti effettivamente negativi questo non vuol dire che le cose però non si evolvono guardate la 7900 XT e la stessa 4070 che comunque hanno avuto un'evoluzione cosa che invece non sta succedendo per 4060 Ti e 4060 che invece stanno rimanendo nel loro brodo ecco, senza uscirne bene al di là di esempi singoli di prodotti questo video prende le cose più in largo del momento attuale del PC gaming e ragazzi, cioè, io quando vedo il PC costa un botto costa un botto aggiornare il PC costa veramente un sacco a me veramente sembra di vedere altre cose rispetto a quello che vedo io tutti i giorni magari è il nostro lavoro quindi noi abbiamo una visione più completa, ci sta e anche più aggiornata e più aggiornata e gli altri invece vivono ancora sentito dire degli ultimi anni, degli ultimi periodi sì, sembra quasi che si sia creata questo sottobosco di consuetudine per il quale il PC costa sempre un botto non c'è mai un cambiamento non c'è mai un'evoluzione mentre invece l'evoluzione c'è stata e come per tantissime cose quindi in questo video volevamo andare proprio un po' a sfatare a zittire tutte quelle che sono appunto queste consuetudini infondate per lo più e farvi capire quanto in realtà oggi come oggi è un ottimo momento per Sam Blackson PC anzi, azzarderei dire il miglior momento degli ultimi 5 anni non è un'opinione, è un fatto è uno dei migliori momenti degli ultimi 10 andiamo per step però perché negli ultimi 5 anni le cose si sono evolute tanto il mercato è cambiato tanto non solo lato GPU con l'introduzione di tutti i nuovi concetti legati al gaming ma anche tanto il livello di tecnologie l'introduzione delle DDR5 l'aggiornamento anche degli standard per gli SSD quindi il conseguente arrivo sul mercato di prodotti a prezzi spropositati in primis ma che adesso hanno visto un riproporzionamento decisamente corposo sì perché siamo usciti gli ultimi 5 anni uscivamo dal primo mining poi c'è stato un annetto e qualcosa buono con le super e poi è arrivata l'ammazzata della pandemia il ritorno del mining, lo shortage difficoltà del trasporto e tutto quello che il cinema che ci siamo raccontati per 2-3 anni poi però le cose sono cambiate nell'estate del 2022 dove i prezzi hanno iniziato a scendere concretizzandosi sempre di più alla fine dell'anno e arrivando ora a più di un anno di quel periodo ormai a un annetto da quel periodo dove le cose sono assolutamente fighe e farsi un PC in questo momento è tornato ad essere un piacere entriamo nel dettaglio SSD e RAM ragazzi SSD e RAM e memorie quindi tutto il mondo delle memorie in generale ha visto grandissimi cambiamenti negli ultimi anni e i cambiamenti negli ultimi anni li abbiamo percepiti inizialmente come qualcosa di veramente proibitivo cioè se ricordate la recensione che abbiamo fatto dei Ryzen con l'introduzione di un chipset che aveva come unico standard il DDR5 era un qualcosa di proibitivo inizialmente cioè le schede macchine costavano un botto le memorie costavano un botto e quindi di base nella nostra recensione dei Ryzen nuovi abbiamo sconsigliato spesso e volentieri di fare quell'upgrade nel momento in cui recensivamo RAM sono calate da un prezzo medio di una RAM decente ovviamente che non era la 4.800 o la 5.200 ma almeno 6.000 sono crollate di quasi 200 euro ora trovare delle RAM a poco più avete visto al Prenday ma comunque anche fuori Prenday a 6.000 MHz a un prezzo normale ci sta tranquillamente se non addirittura quelle da 7-8.000 per Intel ancora si trovano comunque a dei prezzi che non sono proibitivi il lato SSD credo sia il lato più assurdo nel senso che ha avuto un calo di prezzo il SK Anix del Prenday è semplicemente diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma avevamo già dedicato un video su questa cosa qua è un trend enorme che ha letteralmente portato me che ho speso 250-80 euro per il 990 Pro da 2 tera provarselo a meno della metà del prezzo quasi il terzo è letteralmente 6-7 mesi dopo ora è il miglior momento della storia nell'archiviazione per PC non abbiamo mai avuto prestazioni per prezzo per capacità così a livello così alto mai, mai nella storia ma il PC costa tanto cioè, ste cose vanno messe a budget e non le caga nessuno solo a guardare il dito anziché la luna guardando le 1600 euro dalla 4090 infatti, esatto e oltre a questi che sono stati forse i due cambiamenti più grossi a livello di prezzo, perlomeno quello che ribadiamo da mesi ormai è anche il periodo ottimo che stiamo vivendo per le CPU abbiamo fatto una tier list completissima in cui abbiamo analizzato e ripetuto più volte il fatto che non c'è quasi mai una scelta sbagliata in questo momento miglior momento nella storia assolutamente a mani basse da entrambi i lati perché stiamo parlando di comunque una situazione in cui le CPU che abbiamo sul mercato danno un value giusto nella maggior parte dei casi ci sono ovviamente sempre quelle che pisciano fuori in rapporto qualità-prezzo però stiamo parlando comunque di cose di scelte enthusiast che anche rispetto al passato non fanno più quel passo troppo lungo sono comunque soluzioni valide anche nel momento in cui non sono le soluzioni più valide ci sono una marea di best buy perché tutta la fascia i5 tutta la fascia anche di Ryzen 5 che comunque si è rivalutata col tempo adattando i prezzi il 5800X 3D che di che cosa stiamo parlando? è entrata la verticalità nella CPU cioè ora uno può comprare la sua CPU in base a quello che fa i 3D nel gaming ci sono i 65W ci sono processori più dedicati alla produttività che performano magari i 7000 base i 7950 che performano perfettamente in produttività costano comunque attualmente i 7000 base non 3D costano comunque molto molto meno rispetto a come sono usciti c'è una scelta una varietà di scelta eppure delle nuove tipologie di CPU che veramente è a mani bassi perché c'è vera concorrenza oggi in quel settore cioè il miglior momento di sempre nella storia del PC effettivamente non abbiamo mai visto una cosa del genere come gli SSD è migliore non abbiamo mai visto una situazione così bella così rosea piena di scelte e nessuna scelta è una scelta sbagliata per i case elementatori sono parti un po' diverse nel senso che non vengono aggiornate spesso cioè tu con un case di 10 anni fa puoi tranquillamente avere un PC aggiornato o un alimentatore ti fa più configurazioni di PC io stesso ho cambiato l'alimentatore l'anno scorso il mio 860 di Corsair la X860i dopo che ce l'avevo da 6-7 anni ma il mio vecchio SFX di Corsair ha visto tipo 3 build diverse forse quindi sono cose che bene o male una volta che le recuperi buone di buona qualità vanno l'alimentatore è una cosa che ovviamente non può evolvere più di tanto il case in realtà negli ultimi anni è evoluto i mini PC tutte le nuove soluzioni con le camere diverse con l'alimentatore diciamo posizionato in modo diverso stanno venendo fuori diverse soluzioni si sta innovando tanto sotto quel punto di vista lì sia dal punto di vista estetico che funzionale Airflow tutto e ce n'è per tutti i gusti per tutti i prezzi dal case da 50 euro che comunque è migliorato non è più la latta tu ti ricordi i materiali che avevano qualche anno fa i case hanno avuto una grande evoluzione mi ricordo anche gli NZXT da 100 euro che sembravano i case da 50 euro esatto infatti quindi stiamo parlando comunque di un mercato che è evoluto tanto perché già solo di base se voi ricordate non andando fino a 10 anni fa ma anche solo 5 anni fa il vetro temperato era una cosa premium ma no ma ti ricordi i PC che tutti esaltano del periodo PS4 Xbox che erano praticamente dei cassoni di plastica infatti ma qui quello è il momento d'oro no quello su cui però peccano un po' queste due componenti in particolare è che non hanno raggiunto una stabilità come nell'ambito memorie perché abbiamo visto comunque ballare tanto i prezzi ballare tanto le disponibilità abbiamo visto per esempio due anni fa o tre anni fa un periodo di case meravigliosi economici con i metallic gear l'altra brand che non mi ricordo più come si chiama che anche lì a 50-60 euro prendevi un ottimo case ma anche a di meno adesso si trova si fa più fatica però comunque si trova ad esempio il print day c'era il vampiric di MSI esatto infatti quindi è un po' più altalenante però la qualità è migliorata e la qualità prezzo anche è rimasta l'unico forse componente che ha avuto un peggioramento è la MOBO questo anche a livello diciamo mentale nel senso che in realtà molti si basano sono rimasti i nomi delle schede madri uguali però hanno li hanno carrozzati sempre di più quindi tu prendi quella di fascia più bassa e ti sembra di prendere in realtà una scheda madre di merda ma in realtà non è vero è semplicemente che adesso carrozzano enormemente inutilmente certe MOBO per ovviamente i fini della maggior parte delle persone perché non tutti vogliono fare gli overclocker anzi praticamente nessuno infatti e questo porta comunque a uno sforzo e soprattutto a decidere quale scheda madre più giusta per se stesso ma più che altro lì sì un po' è aumentato perché ora è più lo sweet spot dai 200 ai 300 euro è quello che dai 100 ai 200 il problema è che il cambiamento grosso con le schede madre il fatto che le avrebbero carrozzate così tanto negli ultimi anni ha influito ovviamente anche sulle fasce più basse ma anche piena di cagate anche piena di cagate esatto cioè perché display OLED e robe così è totalmente inutili però quelle erano cose che in passato influenzavano solo la fascia enthusiast mentre invece il livello medio si è alzato anche anche il prezzo medio si è alzato però è il componente che ha subito forse gli aumenti più ingiustificati rispetto alle performance e a quello che c'è su e questo non vuol dire però che non si riescono assolutamente a trovare ottimi affari ottime schede madre a prezzi comunque giusti che sono tra i 150 e i 300 euro per non parlare poi di quello che è cambiato sui dissipatori i dissipatori insieme alle memorie sono forse uno dei migliori cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni abbiamo visto entrare nel mercato d'artic d'artic in poi c'è stato un barter uno spacco netto perché da lì in poi sono cominciate a migliorare tutte le varie situazioni di dissipatori che prima erano considerati appunto magari high-end arrivando a introdurre dissipatori a 360 economici che prima magari non vedevamo proprio nel mercato arrivando poi a ottimizzare tutto il discorso ventole tutto il discorso tecnologia tutto il discorso led e mantenendo comunque il prezzo perché gli LS li spingiamo da tanto i Deepcool i Thermalright li spingiamo da tantissimo e sono super budget poi se vuoi prenderti il Corsair 300 euro il display assolutamente fallo e c'è questa possibilità però ora con 70-80 euro ti porti a casa un dissipatore a liquido prestante ma veramente prestante fatto veramente bene cosa che negli anni passati non era possibile e vorrei rispondere anche a tanti di quelli che ce lo chiedono non parliamo tanto spesso dei dissipatori ad aria ma non è che non ci sono più ci sono anche quelli 40 euro di compri dissipatori ad aria il problema è che adesso come adesso la qualità dei liquidi e anche il lato estetico ovviamente perché anche l'occhio tendenzialmente per il PC gamer vuole la sua parte c'è adesso il rapporto qualità prezzo per aria liquido purtroppo regge poco il confronto è quello il problema per quello non parliamo però rimane validissimo ci sono diverse soluzioni tra i 30 e i 40 euro che fanno veramente veramente la fortuna di chiunque le possa mettere se l'estetica non è importante per te quindi assolutamente comunque anche l'aria rimane un valido una valida alternativa arriviamo poi alle GPU perché ovviamente questo è il punto più devastante noi venivamo da periodi osceni ora abbiamo una fascia dai 200 ai 350 euro letteralmente piena di GPU piena dal valore ottimo per alcune e di tutte le marche perché abbiamo Intel con le Arc abbiamo Nvidia con le 3000 e le 4000 e mi dico le 6000 e le 7000 esatto quindi abbiamo una situazione completamente ribaltata rispetto a qualche mese fa in cui eravamo effettivamente orfani di quella fascia lì ma completamente orfani e badate bene qui vale il discorso che facevamo inizio video cioè noi abbiamo recensito spesso e volentieri male tante schede di questa fascia qui ma perché semplicemente c'è stato un cambio di paradigma rispetto al passato non perché la maggior parte di queste schede non valga l'acquisto in nessun caso ovviamente la 7600 al prezzo di uscita era ovviamente inguardabile ma già piano piano è iniziato il suo percorso di discesa che lo porterà spero tra qua a sei mesi a diventare una scheda budget a 200 euro e farla diventare il nuovo best buy d'ingresso per il PC gaming come però la 6650 XT ne abbiamo parlato estremamente bene e ora addirittura a volte si riesce a torare a 229 230 infatti cioè dei prezzi ragazzi di scheda veramente economica che però ha le performance comunque di una console next gen perché quelle sono le performance della 6650 XT ad oggi per non parlare a 6700 per non parlare andando sopra i 300 euro della 6750 XT tutta la fascia 6000 si è completamente rivalutata e adesso è in questa fascia di prezzo in questo range che prima era la fascia medio-bassa per cui stiamo parlando di una fascia completamente ripopolata di scelte oltre al fatto che tanti stanno credendo anche in Intel con la 750 in primis in particolare perché la 770 non ha fatto sto gran successo tanti ci stanno credendo e giustamente perché Intel sta lavorando bene quella da quel lato lì ottimizzando i driver supportando sempre di più le sue GPU eccetera eccetera fino ad arrivare poi magari a fare un lancio migliore con le prossime di cui abbiamo parlato anche nei video scorsi quindi ma anche la stessa 4060 l'abbiamo detto nella review se scende sotto i 300 euro cambia completamente cambia completamente è ovvio che a 330 340 350 no l'abbiamo detto subito in review no ma sotto i 300 euro girano le cose e come è successo esattamente con la 4070 scheda che doveva uscire a 670 anche di più 700 magari su quelli non MSRP in realtà come vedete vi mettiamo anche qua a 590 è già acquistabile sì comunque tra i 590 e i 610 i 615 quindi già è un altro prezzo rispetto all'uscita ed è una 3080 con DLSS3 200 watt code KV1 e tutto quello che ne consegue non solo quando abbiamo recensito la 4070 c'era la 6900 a 699 euro adesso c'è la 6950 XT a 620 euro acquistabile cioè non so se avete capito bene è la top di gamma uscita ad aprile dell'anno scorso è una scheda che il raster è lì lì forse un attimino sopra la 3090 con 16 giga di RAM cioè è una bestia di scheda è una scheda che un anno fa avresti pagato il doppio se non più del doppio quindi capite siamo oltre il 2x delle console di attuale generazione e veramente è comunque una scheda video che anche ad alto risoluzione ad alto framerate veramente ti dà delle cose allucinanti e se vuoi le tech di Nvidia vai sulla 4070 se no vai sulla 6950 XT ma anche le stesse XT e XTX di questa generazione la 7900 XT XTX che erano uscite malissimo cioè nel senso si sono completamente rivalutate quindi è tutta la fascia di schede tutte le fasce di schede hanno avuto delle rivalutazioni nei mesi il punto è che questo periodo è pieno di scelta pieno di scelta vuol dire che ci sono delle problematiche per questo facciamo le tier list subito dopo le review perché la paura è che con la review vi facciate condizionare da certi tipi di discorsi che facciamo lì e poi che applicate a tutto perché poi lo applicate magari a tutta la situazione di schede video cosa che molti fanno perché ragionano di pancia ci sta eh però è sbagliato no più che altro è che rischia di rimanere appunto quella cicatrice della recensione in cui parliamo negativamente di qualcosa poi il prezzo effettivamente scende esattamente come diciamo durante la recensione però rimane quell'idea lì c'è la scheda è negativa è un errore che fanno i brand che devono smettere di farlo perché è cattiva pubblicità per poi guadagnare veramente pochi euro e io questo non lo capisco e veramente non lo capirò mai perché far uscire la 7900 XT a 1100 e due mesi dopo farla scendere di 300 euro è una cosa che non mi entrerà mai nel cervello e non me la spiegate perché non la capisco ma anche davvero sempre per riprendere gli stessi esempi la 4070 è stata una recensione veramente difficile ma veramente difficile perché non quando l'avevamo in mano in recensione e sapevamo il prezzo di riferimento il pensiero era è da lì in su invece poi è stato da lì in giù quindi tutte le valutazioni che abbiamo fatto anche a fine recensione ovviamente poi la gente non se le ricorda perché lì eravamo molto dubbiosi quindi la gente ricorda il dubbio attorno a quella scheda non il fatto che se scende a 600 euro è effettivamente un buon deal e la cosa è questo il problema c'è tanta scelta c'è tanta confusione e ci vuole la testa per comprare bene però si può comprare estremamente bene in questo periodo non è come gli anni scorsi o il periodo mining del 2018 17 non è quel periodo lì ora c'è tanta scelta e si può comprare molto bene e si possono fare veramente dei pc estremamente potenti con poco più di 1000 euro il pc che abbiamo fatto al prendei con una 6950 xt è un pc da poco più di 1500 euro io voglio sapere nei commenti chi è riuscito a farsi il pc perché al prendei secondo me c'era un sacco di gente felicissima cioè farsi un pc come quello che abbiamo proposto al prendei a quel prezzo lì era fotonico cioè era bellissimo quindi quello che vogliamo fare con questo video è farvi rendere conto e far rendere conto a tante delle persone che appunto vediamo nei commenti continuano a reiterare questo discorso del pc che costa tantissimo io vado su multiplayer vedi i commenti eh ma il pc almeno 2000 euro ti costa ma ti ripieni con 2000 euro ti fai un pc con la 4080 infatti cioè ma un pc che proprio neanche ps6 ai momenti anzi sicuro secondo le tecnologie non ci arriva neanche siamo ai livelli di disinformazione purtroppo nel nostro paese è dovuto al fatto che l'informazione non viene veicolata nella maniera giusta per quanto riguarda questi argomenti ed è un fatto però purtroppo poi rimane inculcata nella testa ma le cose cambiano si evolvono è quello il punto più che la disinformazione manca l'aggiornamento sull'informazione cioè nel senso e il punto è che rimangono come della Stovas non te lo dicono che l'hanno aggiustato esatto è rotto e per la maggior parte della gente della Stovas è un gioco rotto non te lo dicono che tre mesi dopo è aggiustato è uno dei giochi con la maggior quantità di opzioni grafiche presenti su pc nessuno te lo dice però è un disastro rimane quell'onta lì e un'altra l'ultima cosa sono i giochi è uscito qualche gioco con problemi alcuni li hanno sistemati della Stovas alcuni no ma anche su console Star Wars però ecco da qua abbiamo Baldur's Gate abbiamo Starfield abbiamo i giochi che devono uscire entro a fine anno che sono un botto e tutta questa cosa qua oltre al fatto che abbiamo un 2024 davanti che sembra pieno di robe il casino Baldur's Gate Starfield a parte che i giocatori Sony fanno ridere perché Baldur's Gate non ci giocheranno mai perché è un gioco che non è anche nelle loro antenne più potenti però tu su pc hai botte piena e voglio briac c'è lo parco titoli game pass roba in uscita prezzo dell'hardware finalmente decente su diversi su tutti 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 i componenti e poi io vedo molti commenti no piccino piccino costata cioè ma ripigliamoci non fatevi influenzare troppo negativamente da quelli che sono i scivoloni perché ci sono stati i giochi che diceva prima Davide che sono usciti con problemi ci sono stati sono stati corretti in gran parte ma anche le schede hardware ci sono stati scivoloni 4060 Ti è lo scivolone forse più grande di Nvidia degli ultimi 10 anni però questo non vuol dire che influenzi il mercato overhaul rimanete così davanti alla disinformazione su diversi forum siti canali telegram o altro valutate quello che è il periodo e date le risposte corrette non sempre le solite risposte i soliti commenti piangina che veramente non se ne può più alla pandemia le cose sono cambiate soprattutto ragazzi qui concludiamo in relazione al costo della vita perché il pc si è abbassato nettamente di prezzo perché ieri eravamo noi due più le nostre ragazze un amico in 5 abbiamo pagato le pizze qua in provincia di Milano più di 50 euro che è il costo delle SSD delle Scheyanit 5 cazzo di pizze e c'erano 3 margherite all'esse lunga c'è un carrello pieno con 100 euro le bollette e tutto paragonato il costo del pc al costo della vita è assolutamente basso oggi come oggi è una controtendenza il costo della vita è schizzato il costo del pc paradossalmente si sta abbassando ma in relazione al costo della vita credo sia uno dei periodi in cui è più economico overall di sempre perché alcuni prezzi sono veramente irrisori l'investimento complessivo per un pc è veramente ottimo in questo momento e non si parla più di pc solo economici come quelli che erano in passato magari con delle classe 50 o 50 ti che ti facevano fare cose pochino però no perché è giusto lamentarsi quando bisogna lamentarsi però bisogna sempre avere il quadro generale siamo noi primi a lamentarci però bisogna anche avere il quadro generale aperto un conto è lamentarsi di un prodotto e quello è sacro santo se fa schifo 40 e 60 40 e 60 ti un altro è valutare il momento della piattaforma generale che è estremamente positivo quindi ragazzi questo è un parere vi abbiamo dato una visione veramente bella ampia di com'è il mercato oggi quindi fateci sapere che cosa ne pensate voi qual è la vostra percezione se anche voi siete rimasti magari ancorati a qualcosa di negativo e questo video vi è servito per risvegliare un po' gli animi o tutto quello che volete come al solito alla prossima ragazzi ciao 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 ciao